sono tornata ciao a tutti e bentrovati come state ragazzi? sono tornata, vi sono mancata? vi siete accorti che sono mancata per qualche settimana? spero di sì perché se no vuol dire che non vi manco, male male e allora, cosa ho fatto in queste settimane? girina, ciao ecco qui, mai un video da solo c'è sempre qualcuno con me allora, sono tornata e sono stata molto impegnata nelle settimane precedenti purtroppo con il mio beneamato TFA e quindi non ho potuto girare neanche un video ma, seppur non ho girato un video ferma ma, seppur non ho girato un video ho prodotto materiale per video e sì, perché durante questi sconsolati giorni sabato, venerdì e sabato normalmente con le mie colleghe a pausa pranzo ci mettiamo a fare degli acquisti inutili e io ho dato ho dato abbondantemente facendo tanti acquistini su Shane molto carini che volevo condividere con voi tutto quello che vedrete non costa più di 2 euro a pezzo quindi sono acquistini compulsivi ma relativamente morigerati anzi molti di questi pezzi costano 1 euro 70 centesimi 1 euro e 20 piccole cosine mi sono fissata con gli orecchini di Shane perché mi permettono di cambiare però se avete buon gusto riuscite a comprare anche qualcosa di veramente fine da mettere e da mettere senza pensiero sapete io qui quando esco un po' di pensiero se metto le cose d'oro ce l'ho che mi rapino che mi facciano un fermo insomma ce l'ho lo penso invece con questo esco sistemata e acqua leggere come vedete mi accarezzo i lobi proprio perché questi sono un acquistino che ho fatto su Shane qualche tempo fa ve li faccio vedere sono degli orecchini a catenella che si infilano e hanno appunto spero di stare inquadrando la parte anteriore questo zirconcino blu che è molto carino e che sta proprio bene mi piacciono questi orecchini pendenti ma non troppo non troppo al candelabro non troppo al lampadario però che danno questo colpo di luce e si confondono un po' con i capelli su questa falsariga ne ho comprati veramente tanti ho comprato vi faccio vedere questi qui che sono la catenella con la perlina un amore in oro rosa di quel metallo vabbè tipo simil oro rosa non è oro rosa sempre uguali comincio entro nel vivo del video ho comprato anche questi così molto carini hanno la pallina che potete metterla sia al lobo con la catenella che scorre dietro quindi infilare la pallina sino al lobo e fare ciondolare tutta la catenella dietro io invece li uso così appesi un po' sì e un po' no faccio fare il giro attorno al lobo e poi lascio cadere anche la pallina e mi piacciono un sacco sono mi sono comprata anche volete che io non compri i dupe più dupe del momento eccoli qua da 500 euro a 2 euro e qualcosa il dupe famoso di questi orecchini strafamosi che io ho preso sia in versione dorata che argentata non perché fossi presa da un raptus vi voglio tutti ma semplicemente perché li vendevano assieme in coppia quindi naturalmente due argentati e due dorati nota sono leggerissimi ero indecisa se prenderli perché vedendoli così corposi questi orecchini mi ero detta ma poi li metterò così pesanti e invece vi faccio vedere messa al lobo sono leggerissimi veramente leggerissimi e devo dire anche carinissimi credo che già me li avrete visti in qualche video su arte per te comunque guardate che bellini non pesano assolutamente nulla al lobo me li provo va man mano me li provo poi sempre a catenella ne ho presi un paio troppo belli questi qui ve li faccio vedere da vicino con la giada con questa pietrina questa radice di giada e questa rossa che stanno troppo troppo bellini ve li mostro anche questi indossati niente questi sono gli orecchini che in questo periodo a me piacciono di più e questi sono molto graziosi perché sono di pietre dure vere quindi non sono plastica e non ho comprato plastica anche questi molto carini ve li faccio vedere adesso così molto fini hanno questa pietra rosa questa pietra ambrata e questa pietra azzurra non sono di plastica non sono di plastica e questi per coloro che non hanno il lobo forato sono a clips e sono molto carini ok metto qui voilà guardate che graziosi molto molto carini anche questi ne ho comprati tantissimi e poi voi dovete dirmi i vostri preferiti poi mi è presa una fissa con gli orecchini al lobo e vai con la serie ho preso i cuoricini anche loro carinissimi a voi piacciono gli orecchini tra me tra i bijoux come avrete capito sono quelli che piacciono di più quindi cuoricini graziosi discreti nulla di esagerato c'è anche qualcosa di esagerato vi avviso poi ho preso questi che sono troppo un amore questi torciglion questi qua questi torcion diciamo così ecco questi è torcion vedete danno luce senza essere esagerati e hanno quella lourda sciura di classe che mi piace tanto perché gli orecchini al lobo sono molto di classe devo dire la verità mi piacciono veramente tanto carinissimi fatti molto bene ora vi dirò anche quelli che non sono fatti bene poi ho preso sempre al lobo questi forse ve li avevo fatti vedere questi qua col silicone attorno e lo strassone e li ho presi mai messi però ancora anche in questo colore dei punti luce proprio pazzeschi questi più mettibili perché col bordo nero questi poco mettibili ma super belli insomma quando siete anche in estate questi secondo me stanno belli anche con un toupet questi orecchini a me piacciono perché sono dichiaratamente falsi e a me le cose dichiaratamente false piacciono un sacco guardate che bella luce che danno se avete un outfit luminoso se volete subito svecchiare questi anche per la montagna per esempio se andate in montagna con una tutta da sci e volete sbrilluccicare al sole montanaro questi sono bellissimi ora non mi chiedete perché l'associazione sbrillocco montagna questo non lo so un'altra cosa che dà luce in maniera molto carina sono questi questi c'erano in tre colori c'erano ambra c'erano verdi mi pare ma io li ho voluti così assolutamente trasparenti anche questi ragazzi sono leggerissimi ma secondo me sono bellissimi un attimo che non li chiudo vabbè comunque guardate che belli danno un tocco di luminosità e vanno bene con qualunque outfit perché sono assolutamente trasparenti se colpiti dal sole però illuminano perché brillano e sono bellissimi leggerissimissimi continuiamo la carrellata delle idiozie da pausa pranzo con un paio super voluminosi a clips mi sono piaciuti tanto questi ve li mostro leggerissimi che ne dite sembrano enormi guardate visti in mano sembrano enormi poi messi al lobo assolutamente perfetti belli questi belli anche col taier per dare un un tocco bellissimi clips stupendi voilà mi piace togliere gli orecchini a clip mi fa molto diva anni 30 vi ricordate nei film tipo Rita che faceva così e li poggiava nel portagioie un'infanzia traviata va bene poi una come ve li ho fatti vedere questi sempre presi su Shein ma in un'altra in un altro raptus molto carini li ho usati un sacco a natale le stelline anche queste a clips guardate che carine queste però non vengono dalla pausa pranzo queste vengono dalle pause notturne prima di andare a letto carini questi li trovate tutti su Shein e adesso l'ultima pausa pranzo perché questa è stata veramente foriera di grandi innanzitutto ho preso un altro di quelli di questi qui tanto mi sono piaciuti per regalarli a mia suocera che non ha il buco e quindi glieli regalo alla compagnia di mio suocero poi l'intrusa l'intrusa non posso non farvela vedere l'unico non orecchino che ho preso questa spilla che è una rivisitazione della dama con l'armellino è bellissima bellissima questa su una pashmina così stupenda ma anche solo per guardarla stupenda potrei farci anche dei quadretti stupenda non potevo lasciarla cominciamo con l'errore sembravano piccoli sembravano dei bottoncini più piccoli fortunatamente sono molto leggeri ma nell'errore io persevolo perché ne ho presi due quindi questi li regalerò a una mia collega visto che abbiamo fatto queste scorribande assieme ma ve li voglio fare vedere indossati perché voglio farvi vedere come un orecchino che solitamente non compreste mai perché direste ma che è sta patacca così grande vi faccio vedere poi a lobo quanto diventa mettibile cioè non è che è una roba incredibile si può assolutamente mettere non diventa pensavo fosse una sorta di cosa da carnevale di rio invece vedete non non disturba particolarmente si è grande come orecchino non lo consiglierei a una ragazza con i capelli corti ma non lo consiglierei per le 8 del mattino ma per il pomeriggio è molto bello se non esagerate con gli altri accessori è adattabilissimo anche ad un look elegante insomma non fa cafone io lì per lì quando li ho visti ho detto ma che sono due palloni da spiaggia in realtà poi messi al lobo non fanno quindi quindi vi dicevo prima del t-alert che ha interrotto il video questi bellissimi non fanno affatto cafone sebbene abbiano questa dimensione grossissima quindi non esagerate con il resto dei complementi degli accessori e vedrete che sono sfruttabilissimi anche questi a un prezzo erisorio io in realtà quando ho comprato questo pensavo fossero grandi come questi però ma non c'è problema perché tanto io mi ero presa quelli zigrinati e anche quelli lisci ve li faccio vedere indossati paradossalmente questi pesano quanto quelli quindi non è la dimensione a dare il peso e anche questi sono molto carini io li trovo adorabili proprio quel punto luce grazioso molto anni 80 molto anni 80 sarà che a me è tornata la voglia degli anni 80 li trovo veramente veramente carini o segnateveli se posso vi metto anche i link magari non oggi ma prossimamente troverete anche i link qua sotto questo video non è in collaborazione con Shane ragazzi questi li ho pagati tutti io comprati tutti io bene continuiamo continuiamo perché non mi sono fermata con dei cerchi traforati a maglia anche questi io raramente uso cerchi guardate sono molto carini questi male che va se non li metto come orecchini potrei togliere il gancetto e usarli come anello comunque vabbè sherry mi apre la tenda allora guardate guardate sono molto belli anche questi tra tutti sono quelli un po' più pesantini ma sono anche molto molto belli molto belli non trovate bellissimi fatti anche molto bene vi lascio per ultimi quelli che mi hanno deluso proseguiamo il penultimo paio prima di quelli che mi hanno deluso voi direte ombretta ma quante orecchie hai sempre due non è quello il problema anche questi revival anni 80 bellissimi bellissimi peccato non avere una figlia femmina in questi casi sarebbe stata felice pure lei vabbè sono l'unica femminuccia di casa quindi devo colmare questa lacuna guardate che belli io li adoro questi orecchini al lobo niente per me in questo periodo orecchino al lobo e orecchino a catenella l'unica soluzione per le mie orecchie bellissimi anche questi non troppo grandi non pesanti molto molto belli e poi gli ultimi su cui riponevo sempre così grandi grandi enormi speranze e sono gli unici fatti non benissimo io sono una rottura parte il fatto che sono molto pesanti e già questo mi scoccia un po' sarebbero questi le due fedi che si intrecciano ma vedete davanti vedete qui sono proprio lavorati male si vede che sono due pezzi di ferro non mi piacciono non mi piacciono sia per la pesantezza sono molto molto pesanti e sì anche per la lavorazione vedete mi tirano il lobo a me quando tirano il lobo danno fastidio quindi non li metterò amen noi anche li restituirò perché per un euro e venti non faccio neanche il reso nemmeno a mettere in moto tutta una maradan inutile li regalerò a chi è abituato più di me a portare pesi alle orecchie e chi non baderà perché questo è veramente un'inezia questa piccolissima piccolissima defiance che ha questo orecchino quindi regalerò sia questi che questi è tutto 3 euro figuratevi e terrò tutto il resto che ne pensate e poi vi faccio vedere un paio che non fanno parte di shane non me li ha regalati una mia collega appunto viste queste scorribande e sono così bellini bellini un po' più da sera ma molto molto belli anche questi naturalmente bigiotteria però con pietra dura esvaroschini molto carini anche questi veramente un punto di colore mi mancavano degli orecchini rossi sono stata molto contenta degli orecchini rossi più da sera mi mancavano molto contenta di riceverli li ho usati a natale moltissimo guardate che graziosi bene questi gli acquisti per i miei lobby su shane più regalo più spilla ditemi quali sono i vostri preferiti fatemi sapere se come me siete in mood orecchini al lobo in questo periodo io li sto adorando ma anche appunto questi col sali e scendi vi faccio vedere guardate che sono belli questi sono veramente veramente carini quali sono i vostri preferiti lasciatemelo scritto tra i commenti e se questo genere di video vi piace fatemelo sapere con un pollice in su io vi mando un grande bacio e vi do appuntamento ad un altro video tutto al femminile ma no anche per i maschietti questi video sono importanti perché possono prendere spunto su piccoli oggettini da regalare vi mando un grande bacio e ci rivediamo prestissimo ciao ciao